Nelle Marche cresce il numero di lavoratori occupati del 3,5%, ma è una crescita segnata dal lavoro precario e inferiore rispetto alla media italiana. E questo è il quadro che emerge dall'ultima rilevazione sui dati IMSS elaborati dall'IRS-CGL. Cresce infatti il numero dei lavoratori part-time, che rappresentano il 32% del totale, e un lavoratore su quattro risulta a tempo determinato. Il precariato colpisce maggiormente i giovani ad avere un contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato è infatti il 34% degli under 30, mentre risultava il 48% dieci anni fa. Il 48% degli under 30 percepisce una retribuzione lorda media annua inferiore ai 10.000 euro. Nel complesso, i lavoratori marchigiani con meno di 30 anni percepiscono una retribuzione media lorda annua di 12.102 euro, ovvero 8.000 euro lordi in meno rispetto alla media della totalità dei lavoratori dipendenti privati. Per le lavoratrici il quadro complessivo non è migliore. Risultano ancora significative differenze retributive tra uomini e donne, le quali percepiscono mediamente 7.200 euro lordi in meno rispetto agli uomini, circa il 30% in meno. Più della metà delle lavoratrici delle marche hanno un rapporto di lavoro part-time. Solo una su tre ha un contratto a tempo indeterminato. Un quadro che secondo la CGL dimostra come le politiche attive per il lavoro attuate dalla regione non abbiano prodotto quell'inversione auspicata per dare avvio ad un inserimento degli under 30. Secondo il sindacato regionale, se i giovani hanno retribuzione di poco superiore ai 12.000 euro medi lordi annui e quasi il 40% a un contratto part-time, non ci si può dire se poi trovano opportunità al di fuori delle marche.